Allora benvenuti, benvenuti in questo sabato all'intervista con la prima intervista a un autorevole esponente del Movimento 5 Stelle, il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Stefano Buffagni. Con lui parleremo di reddito di cittadinanza, parleremo anche di tutte le tensioni che continuano a percorrere l'alleanza giallo-verde, ma non posso non cominciare dalla notizia del giorno. Intanto benvenuto Stefano Buffagni, secondo Banca Italia siamo già tecnicamente in recessione e l'altro giorno a domanda il Presidente del Consiglio Conte ha dovuto ammettere che la congiuntura non è favorevole e dunque come pensate di cavarvela in questi mesi che si annunciano essere piuttosto tempestosi. Innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti. Io credo che non dobbiamo cavarcela solo nei prossimi mesi, ma dobbiamo pensare anche a una visione molto più lungo per respiro. Noi quando scrivevamo la legge di stabilità dicevamo che bisognava invertire il trend perché sapevamo che c'era un rallentamento globale dell'economia mondiale in corso, di conseguenza se mentre il mondo cresceva con l'economia, l'Italia era l'ultima economia all'interno dell'Europa per PIL e crescita grazie ai governi precedenti, era chiaro che non si poteva ripercorrere quel tipo di strade. Quindi abbiamo da un lato dato seguito agli impegni presi in campagna elettorale perché io, visto che è la prima volta che lei dice che vengo in televisione dopo che abbiamo approvato il decreto, vorrei dire che oggi il reddito di cittadinanza che sembrava una cosa impossibile è partito. Ci sono gli stanziamenti di risorse, è stato definito il decreto che ne delinea, poi ci sarà il Parlamento che dovrà migliorarlo, ma dei delinei funzionamenti e sembrava impossibile. E al contempo abbiamo deciso che bisognava agevolare gli investimenti pubblici, non tutti, e abbiamo iniziato a snellire quel codice degli appalti che chi ci ha preceduto aveva creato devastando e bloccando gli interventi all'interno del Paese. Sottosegretario, mi consenta però di ricordarle che proprio questa mattina sul Corriere della Sera il presidente di Asso Lombarda, Bonomi, si dice molto preoccupato, avverte che non possiamo perdere altri sei mesi e chiede subito lo sblocco di TAV e dei cantieri. Dice Bonomi che ci sono 40 cantieri fermi con i fondi già stanziati e questa stessa preoccupazione era stata avanzata qui due settimane fa dal presidente di Confindustria, Boccia. L'opposizione la sta facendo soprattutto il mondo dell'impresa del Nord che non è per niente contento del no alla TAV e del blocco dei cantieri. Che cosa gli rispondi? Io sono del Nord e quindi conosco bene la realtà. Faccio un passo indietro però me lo conceda. Confindustria ha appoggiato il referendum di Renzi come se fosse la soluzione a tutte le criticità del mondo. Gli italiani andavano una parte e Confindustria dall'altra. Dopodiché questa settimana quando noi abbiamo detto che bisognava togliere Strasburgo, cioè la doppia sede del Parlamento europeo, uno spreco di soldi. Lei si immagini che ogni settimana, ogni mese, dei camion portano i documenti da Bruxelles a Strasburgo per una settimana di votazioni. Ovviamente secchiamo 200 milioni e Confindustria ha detto no, vabbè, non importa. Ecco, io quello che dico innanzitutto, poi risponderò volentieri alla sua domanda, è che se Confindustria vuole fare l'attività che le compete, quindi difende gli interessi a imprese, ben venga. Ma se vuole far politica, bene, allora vada a far politica, ma a questo punto credo che le società di Stato, le partecipate, dovranno smettere di finanziargli le decine di milioni di euro che danno a Confindustria e poi voglio vedere come fanno i liberali senza tutti quei soldi, perché questa è la premessa. Dopodiché io condivido le preoccupazioni di Carlo Bonomi, col quale chiaramente ci conosciamo, da mesi ne discutiamo e condivido anche l'esigenza di far ripartire i cantieri. In Francia ci sono i gilleggialli, noi abbiamo detto anche in Aula che noi vogliamo far ripartire invece i gillet arancioni, cioè quelli che lavorano, però non è che vuol dire che bisogna far partire tutti i cantieri, anche quelli che magari ora hanno senso. La Tav, la Torino-Lione è diventata un simbolo di pro o contro, nessuno è andato ad analizzare, anche tra tutte le persone che erano in piazza, non sono state messe in condizione di capire i contenuti della realtà. Lei sa quanti chilometri sono stati già fatti del tunnel principale? Ce lo chiedono sempre. Zero. Del tunnel principale in Italia è stata arrivata di zero chilometro, è un'opera che volevano tutti, da vent'anni ci sono bloccati una marea di miliardi da anni e adesso è arrivato il governo del cambiamento e li ha bloccati. Incredibile, per vent'anni c'è stato questo problema. È anche vero che bloccarla costerebbe quanto costruirla. Questo lo dirà il ministro Toninelli con l'analisi costi-benefici, credo che ci sia un lavoro serio che si sta approfondendo, mi pare di aver capito che c'è una relazione pronta, ma io non l'ho letta e non posso annunciare quello che non conosco. Però ritorno sul tema. Noi vogliamo assolutamente far ripartire quei cantieri utili, e ce ne sono tanti. Vogliamo far ripartire i cantieri per le strade, dove oggi non ci sono, per rimettere a posto le scuole dove vanno i nostri figli e che rischiano di cadere da un momento all'altro. E sono tutti lavori, infrastrutture, opere che possono dare valore aggiunto. Tant'è vero che... Ma non si può fare tutte e due le grandi opere e le opere di manutenzione, come succede nei paesi. Ma noi le facciamo, ma non è che... Ma scusi... In Europa non è che hanno le scuole senza riscaldamento, come succede da noi. Assolutamente, ma le grandi opere sono giuste se sono grandi opere corrette. Non è che noi dobbiamo, siccome c'è titolo nella comunicazione grandi opere, vai, sì, facciamola. Noi dobbiamo guardare quelle opere che ci servono. Se oggi tu devi buttare miliardi, ripeto, per fare un'opera che è antistorica e anticiclica, io ti dico, fermo, quei soldi magari li utilizziamo per fare altro, un'altra grande opera che serve al paese. Abbiamo il meridione d'Italia che non ha infrastrutture, non ce le ha, e noi ci preoccupiamo di ragionare e spendiamo centinaia di milioni di anni per fare il ponte. Allora io dico, interveniamo per fare l'autostrada dove serve, facciamo la linea ferroviaria dove serve, perché oggi abbiamo delle tratte che sono da terzo mondo, e diamo priorità a quei tipi di intervento. In questo territorio, in Lombardia, dove io sono stato eletto, ci sono state realizzate delle opere in project financing che non vengono utilizzate, che hanno generato sulla carta moltiplicatoria... Parlando della Brebemi? Io non mi permetto di andare, lo sa meglio di me, ci sono dei dati che dicono che ci sono più, non solo la Brebemi, di infrastrutture che non stanno assolutamente raggiungendo i target di traffico che erano stati previsti, quindi il finanziamento non è coperto e chi paga pantalone. In aggiunta le dico, proprio per finanziare le grandi opere, noi abbiamo previsto che CDP nel proprio piano industriale prevedesse che le garanzie del credito venissero date a supporto di tutta la filiera produttiva del general contractor, cioè vuol dire, c'è una grande opera, vince il general contractor il bando e ha un rischio di credito, quindi si finanzia con le banche con semplicità. Noi abbiamo detto, quel merito creditizio diamolo a tutta la fornitura, ai sub fornitori sottostanti, in modo tale che tutti riescono ad accedere al credito, le banche hanno la copertura del credito garantito in maniera istituzionale e possiamo far partire una marea di soldi, una marea di lavoro, una marea di attività. A proposito di soldi, veniamo al reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza ha una serie di richieste, mi sono andata a leggere l'articolo 5 del decreto e mi sembra molto impegnativo tenere fede a tutto, perché l'Inps, una volta ricevuta la domanda da chi vuole riscuotere il reddito, deve verificare entro 5 giorni lavorativi i requisiti di chi la proposta, incrociarli con l'anagrafe tributaria, sentirsi col comune e i comuni già hanno detto non abbiamo gente che possa fare queste verifiche, ci vorranno settimane. Com'è possibile che l'Inps in 5 giorni dia via libera alla verifica dopo aver ricevuto la domanda? Mi pare davvero difficile, impossibile. Questo provvedimento lo abbiamo scritto insieme all'Inps, tant'è vero che ci ha aiutato a fare i conti per le esigenze, per le coperture, per le pensioni, quindi non è che ce lo siamo inventati. Le aggiungo un'altra cosa, in questo Paese c'è sempre un motivo per non fare le cose, ci mettiamo degli obiettivi secondo noi raggiungibili, si lavora per quello. Se i comuni fino ad oggi non hanno digitalizzato i dati sui propri cittadini che stanno male, se non hanno fatto il lavoro fino ad oggi, non è che il Paese deve stare in attesa che queste persone si adeguino a un mondo che cambia, sarà premura loro correre, attivarsi, perché qui stiamo parlando della vita delle persone, stiamo parlando di cittadini che non arrivano a fine mese, stiamo parlando di persone che non riescono a mantenere i figli. Io sono colpito perché abbiamo un milione e duecentomila bambini in questo Paese che vivono sotto la soglia di povertà, una cosa che dal punto di vista mio, del Movimento 5 Stelle, è inaccettabile. Poi se qualche vicepremier non vuole scrivere che nella cartolina lì... Salvini non ce l'aveva, reddito di cittadinanza, c'aveva soltanto 400 Salvini. Guardi, se Salvini si vergogna a dire che ha votato un provvedimento, perché l'ha votato, per aiutare un milione e duecentomila bambini, io sono contento se ci lascia tutto lo spazio politico al Movimento 5 Stelle, perché noi siamo orgogliosi di aiutare gli ultimi, ma il che non significa dare assistenzialismo, il che non significa dare soldi a persone che stanno sedute sul divano, il che significa chiedere alle persone, ti alzi, dai una mano alla tua comunità, ti fai formare, ti metti in gioco e vai a cercare un posto di lavoro, perché in questi anni, tra la disoccupazione, la Naspi e la Cassa Integrazione straordinaria, quante persone pigliano soldi e non fanno nulla? Secondo l'opposizione, cito per esempio Mario Elena Boschi, è un messaggio, andiamo tutti in vacanza. La Boschi, guardi, rappresenta un mondo che per me è l'ancien regime, l'ha dimostrato con la cena dell'altra sera, lei si permette, seduta, non lo so, da un divano dorato, di criticare le persone in difficoltà. Guardi, anni fa Montanelli disse una frase che io non credevo vera, in verità i fatti hanno dimostrato che era vera, diceva quando la sinistra va a governare, vuole talmente tanto bene i poveri, non so se diceva Montanelli, ma mi pare aver letto così, che quando va a governare gli vuole talmente bene che li raddoppia. Ecco, io pensavo fosse falso, in verità negli ultimi cinque anni è successo esattamente questo, cioè la sinistra in Italia ha raddoppiato il numero di poveri. Però ha fatto Gentiloni e ha fatto il rei, che è l'anticipazione di quello che volete fare voi. Perché cercavano di coprirsi politicamente, hanno cercato di tagliare i costi da politica e non l'hanno fatto, cosa che noi invece stiamo facendo, hanno cercato di tagliare i privilegi e non ce l'hanno fatta, cioè hanno cercato di copiarci, ma la gente tra la copia e l'originale sceglie sempre l'originale e credo che le ultime elezioni lo abbiano dimostrato. Secondo una cronaca del collega del messaggero Alberto Gentili, la Lega non ha presentato emendamenti sul reddito di cittadinanza perché Salvini avrebbe detto ai suoi, sono fatti loro, si schianteranno. Dubito, perché credo che gli emendamenti, come sa bene lei, si presentano in Parlamento, non in Consiglio dei Ministri. Di conseguenza adesso ci saranno i giorni previsti dalla norma per convertire il decreto e quindi io sono certo che la Lega lavorerà per migliorarlo perché prima di tutto sono parlamentari della Repubblica, pagati, e quindi sono certo che daranno il contributo e magari potranno arricchire il provvedimento portando quei contributi positivi che abbiamo visto in alcuni territori che funzionano meglio le cose. Però posso chiederle una cortesia? Io vorrei capire lei come definisce, visto che adesso il reddito di cittadinanza sembra l'assistenzialismo di Stato, io le racconto questa aneddota. Nel governo, facciamo, diciamo, cito esempi casuali, scopri mentre lavori che a un certo punto esistono delle risorse all'interno delle strutture dei ministeri che sono a disposizione del governo per dare una mano su alcune cose. Tu dici, scusi, ma queste persone adesso scoprono che possono fare questo tipo di funzione, ma in questi mesi in cui siamo stati al governo, in tutti questi ultimi anni, queste persone cosa hanno fatto? Niente. Cioè questo cosa vuol dire? Vuol dire che esistono in una marea, mentre ci sono una marea di persone che lavorano e si fanno il mazzo e fanno molte cose. Ci sono una serie di profili all'interno anche delle strutture che per le statistiche sono lavoro. Probabilmente la realtà dei fatti non saprei come definirle. Allora in questo paese bisogna fare in modo che mentre si parla di reddito di cittadinanza, quindi formazione, costruzione di un profilo nuovo per posti di lavoro nuovi, si torni a parlare anche di efficienza, di efficientamento e di produttività. Lei mi sta dicendo, sottosegretario Buffagni, quello che su queste poltrone, faccio questa intervista da 14 anni qui a Sky TG24, mi hanno detto in tanti, renderemo, a cominciare per esempio dall'ex ministro Brunetta, renderemo efficiente la pubblica amministrazione, tutti lavoreranno. Io non ho detto, io guardi, io i miracoli non sono ancora attrezzato. Io ho detto provocatoriamente come chiamiamo chi all'interno delle strutture dove prende uno stipendio che per la statistica è lavoro, non fa nulla. Quello non è reddito di cittadinanza in anticipo, non lo so, è assistenzialismo di Stato, è frode, non lo so. Il tema è, quel dirigente che non ha fatto lavorare le persone e ha preso un premio di produttività, un premio di risultato, ha diritto a prendere quel premio? No. Allora tutti insieme cerchiamo di andare in quella direzione. Abbiamo 10 minuti e 20 domande ancora. Si regoli lei. Ok, si regoli lei. Sul Corriere della Sera oggi il sondaggio settimanale di Pagnoncelli vi dà il 25,4%, un bel calo, anche perché invece la Lega sale, schizza di 10 punti rispetto ai dati che aveva preso alle politiche, sarebbe al 35,8%. Vi fa star male questo cambio di posizione? Prima eravate voi, quelli che stavano in maggioranza. Io non sono scaramatico ma nel dubbio non guasta mai darci un'occhiata. Prima delle elezioni, guarda, guarda i sondaggi come ci davano e poi il Paese è andato in un'altra direzione. Io credo che questa possa essere un'occasione di stimolo per rimettere in discussione magari alcuni errori che abbiamo fatto e tornare in mezzo alle persone, cosa che stiamo facendo per andare a spiegare quello che abbiamo fatto. Qual è l'errore più grande che avete commesso in questi mesi di governo? Come 5 stelle? Guardi, io fatico a trovare un errore. Io credo che, o perlomeno mi mette in difficoltà a sceglierne uno in poco tempo. La scena sul balcone, non l'avete ripetuta questa volta? Io non ero sul balcone, non ero sotto, però non giudico scelte che sono comunicative come non giudico il fatto che qualcuno vada con le pettorine in giro perché è comunicativa. Quelle sono strategie comunicative. Io parlo di provvedimenti fatti per i cittadini. Quindi, se per caso abbiamo fatto qualche errore in questi primi mesi, siamo in Parlamento pagati per sistemarle le cose. Io credo che in questo momento il Paese abbia bisogno che ciascuno faccia la sua parte, comprese le Confindustria di turno, comprese l'Assolombarda, comprese il Confartigianato, comprese i sindacati, vengano, si siedano al tavolo e ci diano una mano confrontandoci per capire come fare le cose. È un metodo di lavoro questo. Ci si confronta, però si deve sapere che la politica e il Governo hanno un obiettivo. Noi diciamo qual è l'obiettivo, poi lavoriamo insieme. Lei parlava di cose concrete. Dovreste assumere 4.000 navigator per aiutare chi chiederà il reddito di cittadinanza e seguire ciascuno di questi. 4.000 navigator entro fine aprile. Farete un concorso? Nella legge c'è scritto entro aprile. È una battuta che chiedo perché non credo che sia stanziato. Allora, il tema è questo. Ci sono una serie di assunzioni che sono previste all'interno dei centri per l'impiego, con i concorsi e i centri per l'impiego, come lei sa bene, sono in carica alle Regioni. Di conseguenza il Governo stanza le risorse, autorizza le assunzioni e si procederà. Poi ci sono una serie di assunzioni che verranno fatte dall'AMPAL, che è la società, diciamo, l'Agenzia, pardon, delle politiche attive del lavoro, che è del Governo, che prenderà in carico subito una serie di persone già formate, magari da formare in tempi brevi, per iniziare un percorso. Io sono convinto che le cose non è che tu accendi e funziona tutto a mille, ma a noi interessa che funzioni tutto al minimo, per poi crescere, migliorare, raddrizzare il tiro in itinere. Mi faccia anche dire una cosa. Noi abbiamo previsto che all'interno della legge ci sia un'integrazione funzionale con le agenzie per il lavoro, con i privati, cioè realtà che già oggi fanno questo di lavoro e che avranno un incentivo a dare una mano al Governo per far funzionare le cose. Però questo Paese ha i centri per l'impiego che per 20 anni sono stati abbandonati. Lì dentro abbiamo più di 8 mila persone pagate da anni dagli italiani per fare un lavoro, non lo facevano o non lo facevano bene, ci sarà stato qualcuno che ci provava, qualcuno meno e nessun Ministro del Lavoro che si è avvicendato su quella poltrona ha mai mosso un dito, però oggi io li vedo in televisione a spiegare come bisogna salvare il mondo, ai convegni a risolvere i problemi del mondo e quando ne avevano l'opportunità hanno lasciato lì un disastro. Cioè questa è una colpa grave che secondo me non dà diritto a chi ci ha preceduto di aprire bocca. Perché lei dice non l'hanno fatto. Non hanno neanche provato, si può provare, si può sbagliare, ma almeno ci provi. Non hanno fatto nulla. L'ultima domanda sul reddito di cittadinanza e poi passiamo alle banche che è un terreno molto interessante per l'Italia. Ecco, si può parlarne dunque. Come farete a controllare tutti perché il reddito di cittadinanza venga applicato correttamente, cioè facciano la formazione, facciano le otto ore di lavoro settimanale utili per la comunità? Come farete? Perché le dico una cifra. L'anno scorso i controlli congiunti di IMS e finanza per andare a vedere le violazioni sull'Isee sono state 18 mila. Qui stiamo parlando di una platea di 5 mila persone. Mi dica come farete a controllarli? 5 milioni, certo. Come farete a controllarli? Ma innanzitutto i 18 mila controllati bisognerebbe parametrarli a quanti avevano diritto a misure che richiedevano l'Isee. Quindi non possiamo paragonare numeri diversi. Cioè o paragoniamo 18 mila controlli rispetto a una platea complessiva e sappiamo quanto è la platea e la confrontiamo con i nostri 5 milioni. Però il problema rimane. Lei ha evidenziato un problema che esiste e crediamo che l'interazione tra le varie realtà, quindi l'ente locale, il comune, l'Inps, l'Ampal e anche le segnalazioni che spesso arrivano dal vicino di casa che è invidioso perché vede quello che sfrutta un prodotto, diciamo uno strumento di aiuto illegalmente, sono tutti strumenti che messi a sistema possono dare una mano. Poi ripeto, è chiaro che servirà tempo per far funzionare al meglio le cose. Quello che noi ci siamo premurati di avere era un percorso che partisse con un minimo di sufficienza, un 6 di partenza che garantisce il servizio, l'aiuto agli ultimi e mettiamo in moto un sistema. Perché io non sono, non credo che i miracoli funzionino e non posso neanche annunciarli, però abbiamo fatto qualcosa che fino a 6 mesi fa ci dicevano che era impossibile. Oggi tutti quelli che dicevano che era impossibile adesso stanno cercando il cavillo per criticare. Adesso le chiedo davvero delle risposte... Rosiconi io li adoro perché ci tengono in vita. Le chiedo delle risposte molto secche, dei sì e dei no quasi. Carige, lei è stato insieme a Giorgetti tra quelli che invitava la prudenza già per tempo i vostri due partiti. A questo punto si andrà verso una nazionalizzazione o c'è, come dice il Ministro Tria, l'ipotesi della privatizzazione? Si è parlato anche di un interesse di Unicredit. Allora, su Unicredit non credo di potermi esprimere perché non è un tema che mi compete essendo un'azienda privata. Poi non credo che abbiano interesse, questo lo dico a titolo personale, diciamo a fare un'operazione del genere, ma sono libero, libero mercato. Quello che noi abbiamo fatto è stato quello di mettere in sicurezza un sistema perché lei sa meglio di me che l'effetto a catena di sfiducia tra un istituto di credito e l'altro può generare problemi, oltre al rischio per la singola banca che i correntisti andassero a prendere i soldi perché giustamente avevano paura. Quindi noi abbiamo deciso di intervenire per garantire i correntisti, per evitare i disastri di chi ci ha preceduto che ha lasciato sull'astrico diverse centinaia di migliaia di famiglie in questo paese e poi abbiamo detto, signori, sappiate, è pattichiera amicizia lunga, se c'è un euro pubblico si dicono chi sono quelli che hanno preso i soldi e non li hanno restituiti, si vanno a prendere i premi dei manager che hanno raggiunto degli obiettivi che evidentemente non meritavano di raggiungere e se si entra un euro pubblico la banca diventa dello Stato. Dopodiché io credo che lo Stato abbia altre prerogative, noi non credo che debba andare a fare il banchiere in questo modo però dobbiamo mettere in sicurezza le cose e abbiamo fatto quello che chi ci ha preceduto non ha fatto nei tempi perché se Matteo Renzi non avesse aspettato anni per andare a coprire i disastri fatti dal PD in Monte dei Paschi, probabilmente tutti quei miliardi che abbiamo buttato e perso, probabilmente sarebbero stati meno e l'ha fatto in un'ottica di ritorno elettorale, cioè cosa ha fatto? C'è il referendum, posticipiamo, posticipiamo, posticipiamo e ha fatto un danno, hanno azzerato i risparmi di quattro banche più le due venete e noi abbiamo messo un miliardo e mezzo adesso a ristoro. Mi pare chiara la sua posizione, c'è stato nei giorni scorsi un po' di polemica per una cena organizzata a Roma con qualche magistrato e diciamo molti imprenditori, c'erano molti più imprenditori che magistrati a dire la verità, c'è stata anche la star della serata che era Salvini, secondo lei ha fatto bene a andarci o no? Io non ero invitato e quindi sono molto orgoglioso di questo. Era orgoglioso di non essere invitato? Sì, nel senso se l'anzian regime ti invita in un momento di rivoluzione che il maese va in un'altra direzione tu fai delle, trai le tue conclusioni voglio dire, noi ci siamo candidati con degli obiettivi, con la volontà di cambiare sistema, di non far vincere sempre un modello di non meritocrazia ma di relazioni e credo che questo sia da parte nostra coerente di cercare di metterlo in campo, nonostante io poi nel mio ruolo parlo con tutti, incontro chiunque, ascolto chiunque. Poi se Salvini ha fatto questa scelta di anzian regime, secondo me l'avrà fatta con una libera valutazione, io lo rispetto e sono contento che si dimostra che siamo totalmente diversi noi e loro, ma credo che faccia bene a lui, faccia bene a noi. Certo che voi però, anche tra voi, le diversità non mancano. Grazie a Dio. C'è Di Maio, c'è il Di Maio che è governativo, c'è Fico che è più movimentista, Di Battista battitore libero e poi c'è il Movimento 5 Stelle di Buffagni, l'ala pragmatica del Movimento 5 Stelle, ma vi fa bene essere tutto così, diciamo un po' come era la democrazia cristiana degli anni Sessanta, dove c'era Don Hattem da una parte e i Dorotei dall'altra, convivevano molte anime. Guardi, noi siamo un gruppo di persone che cerca di fare le cose, ciascuno fa il suo ruolo. Guardi, c'era un grande campione di pallacanestro, Michael Jordan, che diceva che il campione da solo vince le partite, ma l'intelligenza e il lavoro di squadra vincono i campionati. Ecco, a me piace più la seconda parte, quindi all'interno del Movimento ciascuno di noi fa un ruolo, mette la sua competenza, il suo spazio di abilità, disposizione di una collettività. Faccio l'esempio, Tolto Fico, che è istituzionale, quindi Roberto in questo momento chiaramente deve garantire equilibri più ampi, ciascuno di noi ha un suo ruolo, c'è Ronaldo, c'è Baggio, c'è Nesta, c'è Pirlo, ognuno ha un suo ruolo, ma l'importante è che la squadra funzioni e le cose vadano in una direzione. Io sono anche convinto che Luigi e Alessandro siano due risorse inestimabili del Movimento, il ritorno di Alessandro è una risorsa importantissima, a lui va anche il nostro grazie, perché non era dovuto, non è un eletto, non si ricandida. Quindi viene a darci una mano perché crede nel Movimento, crede in questo Paese, però ripeto, ognuno di noi ha un ruolo. Qual è la cifra sotto la quale, secondo lei, dovrete dire che è andata male alle europee? Questa è una domanda che non mi so mai po'... Io non lo so, spero di non dovermi porre la domanda. Io spero... Lo dico sincero, non avrei una cifra in questo momento, però sono convinto che in questi mesi cambieranno tante cose, anche nella percezione, perché il fatto che torniamo pesantemente a prenderci le nostre responsabilità spiegando, non solo in televisione come adesso, ma in mezzo alle persone, cosa stiamo facendo, che misure abbiamo messo in campo, perché lo abbiamo fatto, credo che sarà utile a far capire ai cittadini che siano rimasti quelli di prima. Dobbiamo chiudere. Berlusconi torna in campo e si candida alle europee, vi porterà via voti? Un uomo per tutte le stagioni, guardi, lui ha sette vite. Ma guardi, credo che questo è un problema più di Salvini che no, noi Berlusconi, se c'è da dire di tutto, non abbiamo nulla in comune, ne siamo veramente orgogliosi. Vi dice che siete scappati di casa, vi chiama così, e non avete mai lavorato in vita vostra, ma lei no, faceva il commercialista. Io spero di poter lavorare anche dopo, guardi, Berlusconi deve continuare a attaccarci così, perché a noi ci fa solo piacere ricordare a tutti che mentre Salvini con Berlusconi va d'accordo, noi con Berlusconi non abbiamo nulla che spartire, quindi sono veramente contento di questo. Non sono proprio sicura che Salvini vada d'accordo con Berlusconi, ma glielo chiederò quando tornerà qui da noi. Grazie a Stefano Buffagni, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, grazie a voi per averci seguiti, ci vediamo come sempre sabato prossimo.